Attilio Redivo, presidente del centro studi ASAP Servizi, ha presentato la ricerca a comunicare domani con cui si fa il bilancio dell'anno in corso. Un bilancio negativo, l'anno scorso in questi tempi molti operatori erano fiduciosi di trovare un segno a più, alla fine del 2011 invece siamo meno 0,7% con un dato comunicato con una buona dose di ottimismo per non deprimere il mercato. I fatti significativi successi che hanno impedito invece di portare il segno a più quali sono stati? Questo è un anno in cui comunque mancano tutta una serie di elementi chiave quali i mondiali, le olimpiadi, questi eventi che comunque attraggono risorse e investimenti pubblicitari. Questo è un primo dato concreto, l'altro dato concreto è che comunque ci confrontiamo con un inizio dell'anno scorso che era stato molto scoppiettante, mentre quest'anno è un po' più tranquillo tra gli investimenti. E il calo degli investimenti l'anno scorso è successo nella seconda parte dell'anno. Quest'anno non siamo partiti pimpanti, ecco se vogliamo quando noi diamo un segno meno agli investimenti complessivi già basta la differenza con i primi tre mesi dell'anno scorso a fare una buona spiegazione di questo trend. Il meno 07 ha all'interno due anime diverse, quindi tutti i grandi mezzi classici che soffrono anche se in misura diversa e diversificata e variegata, è un internet che cresce in tutti i comparti. Quindi sostanzialmente la crescita di internet però non è sufficiente per compensare quello che perdiamo da altre parti. La televisione è il grande mezzo che è ancora in salute però sta mutando da televisione terrestre a televisione digitale e nel passaggio alcune risorse vengono perse per cui i cali dei grandi canali terrestri sono solo in parte compensati dall'esplosione che possiamo definire proprio come tale sulla parte del digitale terrestre. Quindi sono tutti fattori che contribuiscono. Le aziende sono molto prudenti, hanno delle logiche di investimento sempre più di breve periodo per cui tendono a fare programmi sempre più ridotti nel tempo e quindi sono un po' alla finestra. Quindi questo aiuta diciamo a un generale trend che non possiamo definire positivo esaltante. Comunque il meno 07 mostra appunto al suo interno momenti di crescita, tutta la parte della videocomunicazione, la parte digitale si è inteso come televisione che come internet cresce, cresce il search. Quindi ci sono segnali di vivacità sul mercato. Quello che abbiamo provato a trasmettere è che bisogna far leva su questi segnali per cercare di far sì che questo meno 07 cresca. Dal punto di vista del contesto macroeconomico il nostro paese al di là del fatto che i dati sono divergenti però presenta comunque una crescita quest'anno nonostante tutto, nonostante il panorama politico, nonostante le difficoltà economiche. Nel prodotto interno lordo. Siccome il prodotto interno lordo cresce generalmente l'esperienza ci dice che comunque gli investimenti vanno di pari passo con gli investimenti nel mercato, con la crescita del prodotto interno lordo. E questo tipo di segnale fa ben sperare insomma. Ripeto, infatti se noi tenessimo conto di quelli che sono i dati dei primi mesi dell'anno avremmo dovuto proiettare una crescita, diciamo, un calo molto più significativo rispetto a quello che poi abbiamo dichiarato oggi. Quindi la sintesi possono andare solo meglio le cose. Per il 2012 quindi dovrebbe esserci finalmente un recupero di fiducia da parte delle aziende della comunicazione che a parer mio però affrontano, cominciano ad affrontare questo mondo in maniera diversa dal passato. Nel senso che magari qualcuno si aspetta che gli investimenti, qualche mezzo, si aspetta che gli investimenti passati torneranno. E altri però pensano che le aziende sceglieranno e pianificheranno in modo diverso. Quindi la ripresa che tutti aspettiamo per il 2012, che connotazioni avrà? Allora, sono due segnali secondo me molto importanti. Anche qui guardando un po' quello che succede nel mondo. Il primo segnale è che il fatto che la comunicazione sta andando più verso la comunicazione integrata, è che quindi le originarie classificazioni, quindi le originarie ripartizioni tra i mezzi stiano cambiando. Questo è un dato di fatto che non tocca l'Italia ma tocca tutto il mondo. E quindi, questo come giustamente dicevi tu, è uno degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Per cui, al di là del fatto di voler noi di assocomunicazione pensare a riclassificare i mezzi, l'attività in modo nuovo per cercare di tenere conto di questi fenomeni, anche la ripresa di investimenti all'interno dell'azienda cambieranno moltissimo. Oggi i media classici si confrontano con l'attività su punto vendita, si confrontano con... Gli eventi che non avete considerato in queste ricerche? Noi li abbiamo potuti considerare perché obiettivamente diventava un po' complesso. Cioè, oggi cosa attribuisce a un evento? Il media che comunica l'evento, l'attività sulle testate non a pagamento che comunica l'evento, come la classifica. Bisogna mettersi intorno al tavolo con tutte le componenti del mercato e fare un lavoro serio di ripartizione, o pro quota o comunque di assegnazione delle categorie nuove, perché quelle vecchie obiettivamente fanno fatica. Quindi, questo è sicuramente un primo elemento significativo. L'altra cosa che abbiamo provato a dire è che oggi il Sistema Italia si confronta in uno scenario internazionale, globale, che ha delle logiche diverse. Quindi, uno sforzo che noi possiamo fare, perché quel 6-8% che Adam diceva essere la crescita attesa a livello globale, parte di quel 6-8% arriva in Italia e che noi dobbiamo adottare, secondo me, sempre di più rispetto al passato, un atteggiamento maturo nei confronti di attività di comunicazione. Non basta che la pubblicità costi poco. Se la pubblicità costa poco, ma produce meno in termini di vendite, le aziende preferiscono andare altrove. Quindi, nel momento in cui noi, invece, ci prendiamo un commitment, un impegno per misurare sempre di più i risultati, per dare conto del fatto che certe attività portano a casa dei ritorni, non c'è una ragione per cui una multinazionale deve togliere i soldi dall'Italia e mandarli in Brasile o in Indonesia. Il problema che oggi abbiamo, secondo me, è proprio questo. Molto spesso, perché in passato era così, il fatto che la pubblicità in Italia costasse poco, la televisione avesse un costo per GRP basso, era una buona ragione per far sì che in Italia ci fossero tanti investimenti. Oggi questo gap non è più così significativo. Il costo per GRP in Italia è più basso, ma non è così più basso. Non solo, probabilmente già solo in Germania il mercato che va un po' meglio stimola le aziende a tenere le risorse in Germania, anche perché poi ricordiamo che probabilmente in Germania ci vogliono meno della metà dei GRP che servono in Italia per fare comunicazione. Quindi, se anche il costo per GRP costa la metà, la Germania conviene comunque. Quindi, è un problema ancora una volta di ritorno sull'investimento. Una cosa interessante che tu hai puntualizzato è stata appunto questo, che in sintesi quello che ho appena detto, ossia le aziende oggi, quando decidono magari di non investire su un mezzo, lo fanno non perché poi investono su un altro mezzo alternativo, ma dirottano gli investimenti in altri paesi. Questo ovviamente vale per le aziende multinazionali e internazionali. E poi, quindi, hai rimarcato la necessità di avere anche un sistema di rilevazione dati sui mezzi efficaci, puntuali e aggiornati. In questo caso, hai citato giustamente la ricerca Udi Radio, un mezzo così importante che in questo momento è privo di un dato ufficiale, almeno della comunicazione di dati ufficiali. Assolutamente. Questo è un esempio. Questo è sicuramente uno dei fattori frenanti, perché in realtà non l'unico. Le audience non sono l'elemento ultimo decisionale, però sono un importantissimo elemento all'interno del processo decisionale. Quindi, se viene a mancare uno di questi elementi, chiaramente la voglia di qualcuno di mettersi in gioco per investire delle risorse in quell'area diminuisce. Insomma, io credo che in questo tutti noi che lavoriamo in Italia, cioè tutte le componenti del mercato, aziende, media, agenzie, professionisti, istituti di ricerca, tutti quanti abbiamo l'interesse a promuovere una cultura della ricerca, una cultura dell'informazione, una cultura della misurazione, perché è uno dei modi per convincere che c'è ancora del buono ad investire in Italia. Credo che sia questo poi il messaggio fondamentale. In concreto, per Audiradio, dovessi fare un appello alle parti, qual è quello che le agenzie di comunicazione lanciano? Allora, io qui non posso parlare a nome di Assu Comunicazione, perché queste sono obiettivamente, noi ci dobbiamo ancora incontrare nei prossimi giorni a livello di consulta media per prendere la posizione ufficiale. Quindi prendete questa come un'opinione puramente personale. Mi sembra proprio veramente un autogol. Questo forse è l'autogol più clamoroso, ma se ne accompagnano altri storici dei vari istituti che governavano le ricerche. Oggi ancora molto spesso le componenti del mercato hanno un problema di concorrenza tra loro. Non vedono che in realtà la fetta di torta che stanno cercando rischia di non esserci più, non perché la fetta di torta è più grande o più piccola, ma non ci sarà più la torta. Il fatto che buona parte dei mezzi in Italia abbiano una matrice nazionale non aiuta, secondo me, perché questo fa perdere a molti la prospettiva internazionale. Questo incontro è stato costruito anche per far prendere coscienza ai presenti del fatto che abbiamo un sistema molto più grande di noi e che se continuiamo a arroccarci sul nostro piccolo mondo italiano abbiamo veramente poche chance. Bene, con queste parole chiudiamo l'intervista da Tiglio Redivo per ADV Express TV, Salvatore Sagone.